Benvenuti e ben ritrovati pinguini! Oggi rispondo a delle domande. Un gruppo di studenti di una scuola superiore, non so quale, non ho chiesto, mi hanno posto delle domande. Sono uno sbotto di domande, 150. Un terzo sono di natura personale, due terzi di natura tecnica. E poiché non sapevo quale scegliere, ho deciso di rispondere a tutte. Ma poiché sono tantissime, non posso rispondere a 150 domande e non solo il video. Quindi quello che faccio è prendo quelle di natura personale e intanto ci facciamo una chiacchierata in questa camera di hotel, che tra l'altro è lo stesso hotel di questo video. Non è la stessa camera, ma lo stesso hotel. Poi a quelle di natura tecnica, quelle più semplici, farò un video simile a questo in cui prendo le domande e rispondo. Invece delle domande piuttosto tecniche, che hanno una discussione piuttosto lunga, farò un video dedicato. Quindi se voi studenti non vedete in questo o nei prossimi video la risposta, la vostra domanda, è magari perché ci sto facendo un video dedicato. Quindi l'impegno l'ho preso, risponderò a tutte le domande. Quindi prima di passare avanti e leggere e dare una risposta alle vostre domande, quindi in questo video ripeto, quelle di natura personale che mi avete posto, vi voglio prima di tutto ringraziare e ringrazio anche Viaggio, che non solo è un affezionato a questo canale, ma si è occupato di coordinare il tutto. Quindi grazie molte, ma prima di cominciare vi ricordo, come assoluto, se vi piacciono i video che porto sul mio canale, di iscrivervi e di cliccare la campanella degli avvisi per rimanere costantemente aggiornati con tutti i vari video che porto di volta in volta. E inoltre, se vi piacciono da meno tanto, da oggi potete anche offrirmi un caffè virtuale su coffee. Link in descrizione. E adesso proseguiamo. Dunque io di ogni studente ho il suo nome e la prima lettera del cognome e io utilizzerò la prima lettera del cognome in quei casi di omonimia. Quindi se ci sono due Valerio dirò Valerio A e Valerio C, qualunque sia il loro cognome. E inoltre ho anche la loro classe, quindi che so, Valeria della quinta B. Non sono ordinate, ho fatto un ordinamento come direbbe Rene Ferretti. A cazzo di cane. Alessandro della terza D dice, hai imparato a programmare a scuola o per conto proprio? Io ho imparato per conto proprio a nove anni. E poi andando a scuola e all'università ho imparato molte altre cose. Però sì, le basi le ho imparate da solo. Adesso andiamo a vedere la domanda di Francesco R della Quinta E. Perché hai scelto di aprire un canale YouTube. Dunque pensavo che in Italia mancasse un canale dedicato che ripercorresse la storia dell'informatica. Sì, ci sono dei YouTuber, dei canali che ogni tanto raccontano una storia che ha a che fare con l'informatica. Ma non sono canali dedicati. Poi ho sviluppato gli altri format, tutto è venuto un po' così e quindi eccoci qua. Kirill della Quinta D dice, quali sono i tuoi principali interessi nel campo dell'informatica? Deep learning e computer vision. Tutto qua. Per quanto riguarda invece la domanda di Mario D della Quinta D abbiamo, come sei arrivato a questo lavoro? Studiando all'università. Semplice. Roberto della Terza D dice, visto che fai molti video su svariati argomenti, da dove prendi tutte le informazioni per fare i video? La maggior parte dei video che finora ho fatto parlo di cose che in qualche modo io so. Ovviamente non le so nel dettaglio al 100%, però magari le avrò lette in passato, le ho studiato all'università, quindi una infarinatura generale, anche minima, già ce l'ho. Poi quello che faccio è vado online e vado ad approfondire tutte le cose che non mi ricordo, anche perché devo fare un discorso strutturato. Non posso andare da argomento a argomento, cioè devo strutturare bene il discorso perché se no nessuno capisce di quello che sto parlando. Io come punto di partenza uso Wikipedia. Poi molti dicono che su Wikipedia ci sono scritte tante cavolate, però diciamo per quello che interessa a me non è così. Trovo molto spesso tutto condensato in poche pagine, quindi riesco a vedere la storia nella sua globalità e poi la faccio mia mettendo la mia di narrazione, cioè o meglio come io voglio narrare quella storia, che non vuol dire che altro la storia. È importante ricordare che molto spesso su Wikipedia ci stanno le referenze, che sono questi numeretti qua, che una volta cliccandoci di sopra vi riporti in basso ai link esterni, in cui ci sono le referenze dove quelle, diciamo, affermazioni sono state prese. E io poi approfondisco oppure utilizzo cose che magari so che l'Università X ci ha fatto una lezione, quindi magari vado a leggere quelle slide, quindi mischio un po' di roba. Però diciamo, avendo io una infarinatura di base, vado mirato. Ovviamente ho fatto dei video su roba per me nuova, sono stati molto pochi. L'ultimo che ho fatto settimana scorsa di Cody Academy, dove parlo di veri numeri casuali, per me è tutta quella un mondo nuovo. Adesso passiamo alla domanda di Luigi della terza F. La passione per l'informatica, ve l'ha passata qualcuno oppure è una passione che è venuta da sé? Prima di tutto, vai tranquillo, dammi del tuo. L'ho raccontata questa storia nei primi, penso, 30 secondi di questo video. Nonostante ancora ero un po' scarso con l'audio, è comunque il video più visto del canale, quindi lì troverai la tua risposta. Vado la vedere, tanto, come dicevo, proprio all'inizio del video. Non devi neanche guardatelo tutto. Guido della quinta F dice, dando un'occhiata al vostro profilo YouTube, ho notato che una parte dei video sono dedicati a eventi passati e persone che hanno lasciato la loro impronta nell'informatica. Oltre alla programmazione, cosa le affascina così tanto di quel che c'è stato prima? Perché dedicate ore per creare un video che parli di ciò? Le pensate che imparare bene l'informatica ora bisognerebbe conoscere quello che è successo nel passato? Dunque, ottima domanda, ma non ti preoccupare anche tu, puoi darmi del tuo. Quando ero, diciamo, al vostro posto, quindi avevo la vostra età, in storia ero una pippa. L'interesse nella storia mi è venuto poi crescendo con l'età e diciamo il periodo storico che a me mi appassiona di più è il periodo della seconda guerra mondiale, in particolare gli eventi svolti in Europa, perché c'è stata tutta una parte della seconda guerra mondiale che si è svolta nel Pacifico tra gli Stati Uniti e il Giappone e come sappiamo poi tutto è terminato con lo sgancio delle due bombe atomiche. Però sì, tornando al discorso dell'informatica, in quanto tempo? Meno di 100 anni? Siamo passati ad avere computer grandi come Stan Sony a dei computer che adesso sono grandi quanto questo smartphone. E quindi sì, dal mio punto di vista è molto importante andare a capire com'era il passato. Certo, qualcuno potrebbe dire molto di quello che abbiamo oggi è grazie al miglioramento e al progredire della tecnologia dell'elettronica fondamentalmente, però ci sono stati anche dei miglioramenti software che secondo me è importante riportarli. Infatti io non mi focalizzo quando faccio la storia dell'informatica su quello che è il lato hardware, quindi dell'elettronica, perché non è la mia specialità e sono sicuro che sono canali che potrebbero raccontare quella storia meglio di me. Però diciamo dal punto di vista software, quindi sistemi operativi, programmi che hanno lasciato quell'impronta o dei personaggi importanti. Io tra qualche tempo voglio portare anche quelle che sono state le persone importanti nel mondo dell'informatica. Certo, finora ho citato qualcuno, Linus Torvalds, Bill Gates, però diciamo ci sono state altre persone molto importanti che hanno lasciato la loro impronta nell'informatica. E visto che sono nel Regno Unito, prima o poi farò un video su Alan Turing. E per come lo sto programmato sarà anche un video non fatto come questo, tipo in hotel o a casa. Cioè proprio lo farò a modo di documentario, mi leggerò in un posto in cui racconterò questa storia. E quindi sì, andare a capire qual è la storia dell'informatica per me è molto importante per capire come siamo arrivati ad oggi a determinate cose. E questo lo si fa andando a ripercorrere quello che è stato negli anni passati. E secondo me, poiché è fondamentale dedicarci quello che dici tu a perché è vero delle ore, è importante. E io voglio veicolare questo messaggio. Adesso andiamo alla domanda di Raffaele A della Terza F. Cosa ti spinge giorno dopo giorno a creare contenuti su YouTube? Ho tanta voglia di parlare. Semplice. Raffaele C invece della Quinta E dice quale linguaggio di programmazione ti ha permesso di guadagnare di più? Abbiamo qua un imprenditore. In passato quelli che erano linguaggi web, quindi HTML, CSS, PHP in particolare. Adesso Python. Python tutta la vita. Andrea A, quindi da D, dice quali competenze personali ritieni che siano cruciali per un professionista dell'informatica? Dunque, ovviamente a parte le competenze tecniche che servono per la posizione che ricopri, le competenze che tu definisci personali, per me quelle importanti sono due. Comunicazione, quindi essere in grado di comunicare con i propri colleghi, con il proprio team, con i propri magari manager in maniera efficiente, professionale, è importante. Perché ovviamente magari si fanno cose complicate ed è importante essere in grado di comunicare quello che si fa in maniera veloce e rapida, nel senso non veloce e scrivere un'email veloce ma proprio in maniera semplice che chiunque la possa capire. Sì, ok, magari uno si trova in un'azienda di informatica, magari tutti siamo esperti, magari non tutti i tuoi colleghi sanno quello esattamente a cui tu stai lavorando e quindi se tu hai una domanda molto specifica, comunicare in maniera efficace non è facile e quindi trovare un modo per apprendere queste competenze è importante e questo mi porta all'altra competenza che secondo me è fondamentale, ovvero lavorare in gruppo, quindi quello si dice in inglese il team work, perché secondo me essere dei lupi solidari non vi porta da nessuna parte, quindi è importante essere in grado di collaborare e per collaborare torniamo indietro, bisogna essere in grado di comunicare in maniera efficace e professionale soprattutto. Dunque Pasquale M della terza D domanda, cosa ti ha motivato a fare l'informatico nonostante tutti ti dessero contro? Io credo che tu ti stia riferendo ai commenti finali che ho aggiunto in questo video, quello in cui parlo di Linux e credo che tu purtroppo mi abbia frainteso e mi dispiace di questa cosa, mi dispiace che ci sia stato un fraintendimento. A me nessuno mi dava contro per voler intraprendere un percorso accademico e anche lavorativo in informatica, su quello avevo il 100% del supporto. A me, cioè io venivo preso in giro perché in quella fase della mia vita che avevo tipo 15-16 anni, non ricordo esattamente, alcune persone mi prendevano in giro perché io stavo spendendo del tempo, quindi investendo il mio tempo a usare Linux. Era su Linux che tutti mi dessero contro, o meglio, non tutti, una parte di persone mi dessero contro, ma non per diventare informatico, per Linux. E so, per quello che poi è successo nella mia vita, che aver passato quei pomeriggi è stato veramente importante per avere poi una galera di successo. Quindi sì, mi dispiace per la convulsione ed è importante, secondo me, cogliere questa occasione per mettere i puntini sulle i su questo argomento. Adesso rispondo alla domanda di Gervasio della quinta B e di Simone della quinta E, perché hanno più o meno la stessa domanda. Hai qualche altra passione oltre all'informatica? Oltre all'informatica, quali sono i tuoi interessi e hobby che potrebbero stupire il tuo pubblico su YouTube? Che ne hai mai contenuto al riguardo sui tuoi vlog? Allora, a me piace tantissimo viaggiare. O che sia per lavoro, per piacere, io viaggio tantissimo. Infatti adesso io sono in viaggio. Questo è un viaggio di lavoro, però quando è stato un mese fa ero ad Amsterdam, questa settimana, prima di venire qua, ero a Parigi. E se qualcuno mi ha seguito su Instagram avrà visto che ho fatto delle storie su dove mi trovavo a Parigi. Quindi sì, viaggiare, lo so che lo dico in tanti, però a me piace. Poi un'altra cosa che a me piace è guidare, cioè proprio prendere la macchina e guidare. Infatti, per questo viaggio di lavoro in cui mi trovo adesso qua, io ho guidato la bellezza di 300 miglia, che sono parenti di 500 chilometri. Sì, l'ho fatta 6 ore di macchina. A me piace, lo faccio. E domani, quando ritornerò a casa, ne farò altrettanto 300 miglia, senza alcun problema. Poi un'altra passione che ho al di fuori dell'informatica è giocare a bowling. Da quando mi sono trasferito l'ho dovuto mettere da parte perché ho avuto tanti problemi relativi al trasferimento. Ma mi sono promesso di riprendere e sul bowling ci ho fatto diversi video. Tra l'altro c'è la serie di 7 linguaggi in 7 giorni che voi andate a recuperare in questa playlist in cui tutto gira intorno al bowling e quindi ci ho fatto tanti video su questo aspetto. Poi io con dei miei amici da remoto giochiamo a un gioco di ruolo vecchio stile, cioè personaggio, carte e penne, l'angelo di dati, che si chiama l'ex arcana. Noi siamo sparsi un po' in tutta Europa, cerchiamo di incontrarci una volta a settimana quando possiamo e stiamo là un paio di ore per far finta di essere dei romani tipo del vecchio impero romano. Perché questo gioco di ruolo, l'ex arcana, che abbia andato in un impero romano un po' alternativo. Un'altra passione che avevo prima della pandemia, ma a causa della pandemia l'ho dovuta abbandonare, anche se mi piacerebbe riprenderla, è quella del drone. Io ho un drone, magari se volete fatemi sapere sotto nei commenti se volete un video sul drone, perché lo dovrei rimettere in sesso, quindi ci sono delle cose da fare e non sarebbe un video che farei in mezza giornata, proprio mi servrebbero alcuni giorni per preparare e vedere se tutto funziona come dovrebbe funzionare. Però a causa della pandemia non potevo uscire, regarmi in un luogo desolato e far volare il drone. Ovviamente durante la pandemia non potevo uscire a fare questa cosa. Poi da quando mi sono trasferito non so neanche dove andare, perché dove abitavo prima sapevo dove regarmi con la macchina in un posto sperduto e far volare il drone. Adesso mi trovo in una zona completamente nuova e devo andare a trovare un luogo che è adatto per fare questa cosa. E trovi anche a rinnovare la mia licenza, perché sì, c'è una sorta di patente che va rinnovata, se non ricordo male, ogni tre anni. La mia è sicuramente scaduta. Però quella della si fa in mezz'ora online e si paga. Però non è quello il problema. E quindi se volete un video sul drone, qui sotto nei commenti, fatemi sapere. Allora, la domanda di Andrea L, della Terza D, è Carissimo Valerio, secondo lei qual è il migliore fra iOS e Android? E perché? Dunque, tutto dipende da quello che bisogna fare. Per me, per quello che faccio io col mio smartphone, iOS. Io lo uso da diversi anni. In passato ho avuto diversi Android, tipo il mio primo è stato un Samsung Galaxy S2, che per me è stato il miglior telefono che abbia mai avuto. Poi, purtroppo, si è rotto. E gli altri Android che ho avuto erano scarsi. Ho avuto un LG, un Huawei, forse ogni un altro, non mi ricordo, ma mi ci trovavo male, per quello che dovevo fare io. E poi, quando ho passato iOS, ho detto io non lo cambio più. Quindi, ripeto, per quello che ci faccio io, iOS è il numero uno. Adesso passiamo alla domanda di Aniello A, della Terza F. Qual è il progetto informatico più complesso o interessante a cui hai lavorato? È una domanda molto difficile, perché ho lavorato da molti progetti. Ti racconto invece il progetto che ricordo con più affetto. Mi trovavo in Erasmus. Io ho fatto l'Erasmus in Danimarca. E in quell'occasione ho dato l'esame di computer grafico. Il progetto che ci fu assegnato dal nostro professore era quello di creare uno stormo di uccelli o uno stormo di... non so se dice stormo... di pesci, un gruppo di pesci, non so qual è la parola corretta che si usa in questo caso, che dovevano avere alcune caratteristiche. Dovevano girare intorno a un oggetto di nostra scelta e quando giravano intorno a questo oggetto non dovevano compenetrare l'oggetto, quindi dovevano andarci attraverso, non dovevano neanche compenetrarsi fra di loro. C'è un algoritmo molto famoso e anche molto vecchio, però è vecchio ma funziona benissimo, che usando quattro regole ti permette di evitare che i vari pesci o uccelli si compenetrino. Questo algoritmo non ricordo esattamente il nome ma vado un po' a memoria qua, credo che si chiamava Void. Io l'ho implementato e funzionava. Nel fatto in specie cosa ho fatto? Io ho fatto un grande spazio, proprio spazio tipo le stelle. Al centro c'era una sfera che rappresentava il mondo, quindi c'era una texture della terra fondamentalmente, e i vari uccelli che poi non erano proprio degli uccelli, erano tipo degli obali, tipo dei siluri, con dei triangoli che simulavano le ali, e ogni uccello sulle ali aveva la texture di una bandiera, quindi per dare quella cosa che ogni uccello rappresentava uno stato del mondo, che giravano intorno alla terra. Però era figo perché io potevo spostare la terra e tutti questi uccelli venivano attratti dalla terra e una volta raggiunta ci giravano intorno. Purtroppo ho perso il codice, ma se dovesse recuperarlo vi giuro che ci faccio un video. Questo progetto lo feci in C, utilizzando OpenGL, ma la cosa figa di questo progetto non era il progetto, cioè la fase di coding di questa cosa. No, era come veniva presentato. Lo dovevamo presentare in un laboratorio in cui erano posti due proiettori e la luce di questi proiettori veniva polarizzata. Un proiettore con potenzione orizzontale, l'altro proiettore con potenzione verticale. Cosicché, quando veniva proiettata la luce di questi proiettori sullo schermo, dovevamo mettere gli occhiadini, stile quelle che si usano nei cinema 3D, e potevamo vedere il nostro lavoro di rendering in 3D, nel senso che noi ci potevamo spostare, mi ricordo, ed era una cosa fighissima, perché vediamo che questi oggetti, un po' come se stessero uscendo dallo schermo, ed era una cosa fighissima. Dal punto di vista hardware, vi ho detto cosa serve. Due proiettori, che siano bene allineati, filtri per polarizzare la luce e gli occhialini, ovviamente. Cosa serve dal punto di vista software? Dovevamo semplicemente renderizzare la scena due volte, con due camere virtuali diverse. Semplicemente una camera doveva essere spostata in un'asse rispetto a un'altra, di una distanza più o meno paragonabile alla distanza dei nostri occhi. Quindi, poi lo renderizzavamo in due finestre, una finestra andava in un proiettore, l'altra finestra andava in un altro proiettore, e la polarizzazione, i giocchialini, facevano tutto il lavoro che rimaneva, per dare l'effetto che le cose uscissero dallo schermo. È stata un'esperienza, per me, bellissima, anche se poi non sono diventato un esperto di computer grafica, anche perché non è il mio ambito, perché, come dicevo poco fa, il mio ambito è informatico e altro, però mi ricordo questo progetto con molto affetto. Adesso passiamo alla domanda di, anzi, alle domande di Antonio e Carlo della Terza D. Perché chiami i tuoi iscritti pinguini? Perché hai scelto il pinguino come mascotte. È stra carino. Quando in passato mi sono immerso nel mondo di Linux e tutto quello che ci sta intorno, per me è stato un grosso cambiamento, sia dal punto di vista personale, perché dovevo utilizzare il nostro operativo, e anche dal punto di vista professionale, perché comunque saper utilizzare Linux è una cosa molto ricercata. E poiché il pinguino è la mascotte di Linux, secondo me, onorare questa cosa, chiamando i miei iscritti pinguini, era la cosa giusta. Adesso passiamo alla domanda di Salvatore C della Terza F. Se tu avessi avuto un forte legame affettivo qui in Italia, saresti mai partito per l'Inghilterra? Dunque, prima di tutto, io vivo nel Regno Unito. Certo, adesso vivo in Inghilterra, ma anche adesso sono nel Regno Unito. Ma non sono in Inghilterra, adesso mi trovo in un'altra città, in un altro posto e non in Inghilterra. E' importante capire cosa è l'Inghilterra e cosa è il Regno Unito. Il Regno Unito è questo stato che avete qua a schermo, che è composto dalla Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord. La Gran Bretagna comprende altri tre stati. L'Inghilterra, come sapete, che è quello più grande, il Galles e la Scozia. Effettivamente io adesso vivo in Inghilterra, ma non in passato. In passato io vivevo da un'altra parte nel Regno Unito. E quindi è giusto chiamare lo Stato come si chiama? Regno Unito. E' la stessa cosa fra Olanda e Paesi Bassi. L'Olanda è una regione dei Paesi Bassi. Adesso, per rispondere alla tua domanda, se avessi avuto un forte legame affettivo, mi sarei spostato? Sì. Perché poi cosa succede? Gli anni passano e poi, sai, si possono, si potrebbero creare dei malcontenti perché magari ti sei pentito di quella scelta. Perché magari dici, cosa sarebbe successo se X anni fa mi sarei trasferito? E' proseguire con quella parte della carriera. Se avessi avuto un forte legame affettivo, come dici tu, magari ci potevamo trasferire insieme. O magari potevamo avere per un periodo una relazione a distanza. Molto dicono che la relazione a distanza non funziona. Sì, è vero. Ma qui si parla di un forte legame affettivo e se un legame affettivo è così forte come dici tu, secondo me resiste anche a questo. Per come sono fatto io, non avrei mai rinunciato alla mia aspirazione di carriera. Adesso passiamo alla domanda di Alfredo della Terza F. Come mai hai scelto di fare video su YouTube a zinché insegnare all'università o altro? Ma io faccio altro. Non posso campare di YouTube. Io infatti adesso mi trovo in questo hotel perché ieri avevo un meeting di lavoro. E infatti questo ci porta alla domanda successiva di Basile della Quinta F, che tra l'altro credo che Basile sia un nome greco. Correggimi se sbaglio nei commenti. Io c'avevo un amico greco che si chiama Vasili, che significa re. Non ricordo male, era re o regno. Correggimi nei commenti. Come gestisci il bilanciamento tra il tuo lavoro nell'ambito dell'informatica e la creazione di contenuto online. Beh, io lavoro diciamo la mattina e pomeriggio, poi la sera mi posso dedicare alle mie cose, che possono essere guardare una serie tv o fare video su YouTube. Diciamo che io dedico il weekend per registrare, molto spesso il sabato, sabato mattina, dedico per registrare. Magari le serie precedenti, magari dopo cena scrivo il copione, poi nel weekend registro e poi nel weekend inizio il montaggio e se non riesco a finire lo proseguo nei giorni successivi. Quindi sì, la mattina e pomeriggio si lavoro, la sera faccio i affari mail, quindi mi dedico a questo. Ecco, adesso qui abbiamo una domanda che è stata fatta da un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci di voi. E siede Carmine e Gaetano della quinta D, Ciro e Fabio della quinta F, Fiorenzo della terza F, Francesco D della terza D con Riccardo P sempre della terza D, poi abbiamo Salvatore A della quinta F anche lui, Salvatore C e Vigenzo T della quinta E. Tutti dicono, a che ed è iniziato ad appassionare l'informatica? Come si è avvicinato al mondo dell'informatica? Dove è nata la passione dell'informatica? Quindi adesso è meglio rispondere al come, quando, il perché è iniziato alla passione per l'informatica. Sì, è vero, poco fa avevo detto che a nove anni, diciamo, è quando iniziai a imparare a programmare, ma a nove anni è a programmare. Però, diciamo, l'interesse per tutto quello che c'era in donna l'informatica nacque molto prima. Nella città in cui sono nato i miei genitori avevano un negozio di informatica quando ero molto piccolo e quindi io fui sempre circondato da computer, console di gioco, insomma, da tante cose. Quindi, poi, sì, a nove anni mi è venuto l'interesse di andare a capire come questi programmi o gioie che vedevo a schermo per i monofanti e lì l'interesse per la programmazione in particolare. Benissimo, adesso passiamo alle domande di Daniele della terza D e Vincenzo della terza C. Iniziamo con quella di Daniele della terza D. Ho notato molte foto di vari cibi che hai cucinato e sembrano buonissimi. Le appassiona la cucina? E come hai imparato? Inoltre mi chiedevo l'origine del nome del suo cane Chilo. E per caso una traslazione di una parola straniera risponde alla prima parte sui cibi e poi quella del cane successivamente. Diciamo che io vivo da solo da moltissimi anni. Penso quasi da decine d'anni, quindi imparare a cucinare era proprio necessario per la sopravvivenza. Però diciamo, durante la pandemia, avendo molto tempo libero, visto che non si poteva uscire, ho affinato alcune tecniche. Certo, non sono uno chef stellato, non ho quella presunzione. L'importante è che quello che cucino io piace a me e ai miei amici. Io sono contento. Vincenzo C. della terza D mi chiede perché il tuo cane si chiama Chilua? Ti piacciono gli anime? E questo mi permette anche di rispondere alla domanda di Daniele. No, gli anime non mi piacciono. Se tu passi da chiedermi il nome del mio cane agli anime, sai già da dove l'ho preso quel nome. Lo sai benissimo. Però, sia tu che Daniele volete approfondire la storia del mio cane, anche perché purtroppo un anno fa se n'è andato, io raccontai tutta la sua storia in questo video. È un po' triste, me ne rendo conto, però a me piace sempre raccontare la sua storia e portare avanti la sua memoria, anche perché era andato a causa di una brutta malattia, che racconto sempre tutto in quel video. Quindi, se avete piacere, andatelo a recuperare. E Eustachio della terza D chiede, ho visto che hai dei poster di Pac-Man e Rick Morty. Chi hai provato giocando e guardandoli? Hai dei bei ricordi riguardanti queste opere? Dunque, di Rick Morty effettivamente è un poster, ma di Pac-Man non è un poster, è una tela. E quella tela ha una storia della Madonna. Perché io stavo camminando, mi ricordo che stavo tornando a casa ed ero con almeno altre due o tre persone, stavo andando a casa, tra cui una di quelle persone era pure una mia ex ragazza dell'epoca. E ho visto accanto al bidone dell'immondizia questa tela con Pac-Man. E ho guardato che mi stava attorno, uno mi fa prenditela. Io non ci ho pensato due volte, l'ho presa e l'ho portata a casa. Certo, qualcuno la voleva buttare, non era dentro un bidone dell'immondizia, era proprio messo accanto. Non era danneggiata, non era sporca. L'ho presa, l'ho portata a casa, l'ho ripulita e l'ho appesa. E quella tela ce l'ho almeno là da... dal 2019. Quindi l'ho recuperata da un destino molto brutto. Invece quella di Rick Morty l'ho presa da un negozio. Allora, cosa ho provato a giocare? Dunque, con Pac-Man tra l'altro ci ho giocato parecchio di recente, non con una versione online rifatta, eccetera, eccetera. Con l'originale. Diciamo che con i vecchi gabbinati l'emozione che si prova è bella, però diciamo che poi quando perdi ti metti in altri gettoni, diciamo, poi viene quella semirabbia in cui dici, no, stavo vincendo, sapete com'è, no? Invece per Rick e Morty, secondo me Rick e Morty è il cartone animato per adulti migliore che sia mai assistito finora. Questo primato, per me, almeno per me, per quello che mi piace vedere, no? C'aveva prima South Park, ma Rick e Morty secondo me ha dato quella marcia in più. Ovviamente quella marcia in più di disagio che a me piace guardare, quindi mi è molto piaciuto, devo essere sincero, proprio Rick e Morty. Spero che faccio un'altra stagione perché voglio vedere come va a finire. Soprattutto la storia del clone della mamma di Morty. Adesso abbiamo una domanda a Nikita G della terza F. Qual è stato il momento più gratificante o soddisfacente che hai vissuto nella tua carriera di programmatore e come ti ha influenzato? Dunque, nel mio primo anno di dottorato scrissi un programma di machine learning per analizzare immagini di piante. È stato molto gratificante. Con quel programma che ho scritto, ci ho pure scritto un articolo scientifico e lo presentare in una conferenza. Quindi immaginate, io a mio primo anno di dottorato scrivo una cosa che poi ci esce pure un articolo scientifico e poi lo devo presentare a una conferenza, prendere l'aereo, andare là, preparare le slide, parlare a un pubblico. È stata una figata pazzesca. Benissimo, pinguini. Prima di tutto io vi ringrazio per aver guardato fino a questo punto e prima di lasciarvi vi ricordo che continuerò a rispondere a queste domande perché solo queste di oggi erano quelle di natura personale. Ce ne sanno ancora altre 100 di natura tecnica che, come dicevo poco fa, alcuni di quelle che sono, diciamo, a cui posso dare una risposta veloce rispondere in un video come questo oppure in un video dedicato. E quindi, grazie ancora una volta per la vostra visione, andate a guardare gli altri video fantasticosi mozzi e piante che ho fatto su questo canale e quindi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!